Salve, benvenuti su Nvidia. Io sono Monte e questo è PlayerOne, la serie di video in cui parlo di ciò a cui sto giocando in questo periodo. Ma ora preparatili ad essere terrorizzati, perché l'ombra di Halloween incombe su di noi e gli spettri del passato. Cosa? Oh, Halloween è già finito? Siamo a metà novembre? Sì, ma cosa me ne faccio di questi giochi horror? Immagino che rimarranno da parte fino al prossimo anno. Ma c'è un gioco che pur non essendo propriamente horror ne condivide alcuni elementi. E che è da quando ho aperto il canale che continua a picchiettarmi sulla testa chiedendomi di parlare di lui. Come avrete intuito dal titolo del video si tratta di The Vanishing of Ethan Carter. E' probabilmente uno dei giochi più difficili di cui parlare e credo di essere un po' masochista da averlo scelto come prima. Però ormai è fatta, quindi basta perdere tempo. Premessa. Farò del mio meglio per evitare spoiler non solo diretti ma anche a livello visivo. Questo video vuole incentivarvi ad andare a giocare all'opera originale. E molto dell'impatto che crea dipende anche da molti scenari che voglio evitare di rovinarvi. Ti piacciono sparatutto frenetici e pieni d'azione? Ti piacciono giochi in cui hai giusto un paio di frame per reagire agli attacchi dei nemici? Ti piace livellare il tuo personaggio e vederli acquisire power-up sempre nuovi e sempre più devastanti? Beh, allora ti conviene guardare altrove, perché Ethan Carter non ha niente di tutto ciò. In compensa se sei affascinato dal paranormale. Se ti interessano opere con un'atmosfera che pare tirata fuori direttamente dalle migliori pagine di Stephen King e Lovecraft. Se ti piacciono le vecchie avventure grafiche in cui devi collegare gli indizi per conto tuo, senza che nessuno ti dica come e quando farlo. E se provi gusto nel venire presa a pugni nell'equivalente emozionale del tuo fegato, solo per poi frignare come un bambino di sei anni a cui hanno rubato la carta super rara di Articuno, che teneva nell'album sotto il comodino, che tanto lo so che sei stato tu Giovanni, l'avevo fatta vedere solo a te. Se queste cose ti interessano anche solo vagamente, allora sei fortunato. Perché questo gioco non solo le fa benissimo, ma è anche capace di infilarci in mezzo a una trama eccellente e quella che ad oggi è ancora una delle migliori grafiche in circolazione. Ma andiamo con ordine. Negli ultimi tempi devono aver messo qualcosa nell'acqua che bevono in Polonia. Se fino a qualche anno fa, infatti, se avesse dovuto magicamente sparire dalle mappe, il mio più grande rimpianto sarebbero probabilmente stati Ghiruoghi. Ora ci ritroviamo con questa nazione di poco meno di 40 milioni di abitanti, che ha sfornato alcuni fra i migliori giochi della generazione. Per dirne alcuni, Dying Light, The Cat Lady, Super Hot e ovviamente The Witcher 3. Probabilmente il mio gioco preferito di sempre. Oltre appunto a The Vanishing of Titan Carter, creato da uno studio indipendente chiamato The Astronauts. E c'è da dire che questi astronauti tirano fuori i loro coglioni quadratissimi fin dall'inizio del gioco. La prima cosa che vedi iniziando a giocare, infatti, è un messaggio da parte loro. Questo gioco è un'esperienza narrativa che non ti conduce per male. Sì, cazzo, grazie. Non c'è nessun... Hey, listen! Non ci sono mappe interattive, non c'è una magica linea fluorescente che ti conduce alla tua destinazione. Dopo una breve introduzione narrativa sei buttato in questo mondo sconosciuto. C'è una ferrovia davanti a te, e la segui perché è l'unica cosa da fare. E dopo pochi metri ti viene subito offerta una scelta. Ma non si tratta di scegliere un'opzione di dialogo o il colore dei capelli del tuo personaggio. È molto più sottile di così. Guardate come il sole illumina questi alberi, e il modo in cui l'erba si dirada per formare un sentiero. Questi sono gli sviluppatori che stanno parlando direttamente al giocatore. Stanno dicendo Ehi, guarda, in questo gioco hai più opzioni. Puoi seguire la strada già segnata, o puoi andare in giro ad esplorare questo mondo che abbiamo costruito. Fai quello che ti pare con gli strumenti che ti diamo. Lo sanno che il tuo cervello è allenato ad analizzare la situazione che si trova di fronte. Lo sanno che tu prenderai questo in giro semplicemente perché ne hai la possibilità. Non prendono in giro la tua intelligenza. E infatti, prendendo la strada avveno battuta, la trama prosegue. Ma è solo qualcosa di parallelo all'esperienza. Non ti obbligano ad andarci. E sei libero di stare sulla ferrovia e di arrivare fino alla quasi conclusione del gioco senza scoprire che lì ci fossero delle trappole. Lasciandoti libero di completare il tutto nell'ordine e nel modo in cui preferisci. Questo è qualcosa che amo. È il mondo di gioco a spiegarti come interagire con il mondo stesso. Non un artificio esterno messo lì per paura che tu ti perdi una parte di ciò che è stato programmato. È puro e semplice buon level design. Al di là della A non ti viene neanche spiegato cosa facciano davvero i tasti sul tuo controller. Non ti viene detto che puoi correre, abbassarti, zoomare. Si aspettano semplicemente che tu premi i tasti perché alla fine, perché non dovresti? Sono là e devi giocare per almeno 5 orette per arrivare alla fine. Prima o poi lo premerai questo benedetto elettino. E il fatto che non ti venga detto niente rende il tutto molto più appagante. In realtà il gioco ti accompagnerà nelle tue scelte e nella tua avventura con vari numerosi indizi. Ma non ti vengono mai buttati in faccia come se fossi un deficiente. E sei liberissimo di ignorarli e di mancarli tutti fino alla fine. Non è solo una lettera d'amore diretta ai propri giocatori e all'industria. Ma anche e soprattutto all'horror e alla fantascienza degli anni 70. Avendo visto da poco Stranger Things non riesco a non paragonare i due. E hanno davvero tanti punti di contatto. Ma se è possibile Ethan Carter va anche un passo più avanti. La trama viene introdotta nei primi secondi di gioco. Sei poi il prospero? Madonna ma quanto è figo sto nome. E adoro la sua voce. Dicevo sei un investigatore del paranormale. Che è arrivato a Red Creek Valley per indagare sulla scomparsa di... Indovinate chi. E questo è l'ultimo caso della tua carriera. Insomma. Si può tranquillamente dire che abbraccia completamente tutti gli stereotipi e cliché del genere. Ma la cosa davvero interessante è che non si limita a compiere un'azione citazionistica e reverenziale come invece fa Stranger Things. Ma questi stessi cliché verranno girati sulla loro testa. In modo da lasciare di merda anche il più stoico fra di voi. Certo questo non significa che il gioco sia esente di difetti. Con l'eccezione di un paio di casi i puzzle veri e propri sono piuttosto semplici. Il fatto che non ci siano aiuti testuali può ogni tanto lasciarti disperso nel mondo e pensare... È mo'. E il mondo di gioco nonostante sia bellissimo da guardare manca criminalmente di interattività. Ma personalmente trovo che i lati negativi impallidiscono di fronte a tutto ciò che hai da offrire. Abbiamo horror lovecraftiano. Un mondo di gioco costruito benissimo. Momenti di tensione altissima. Scorci incredibili. Doppiaggio eccellente per ogni personaggio. Colonna sonora sempre azzeccatissima che accompagna ogni tua azione alla perfezione. Il fantascienza degli anni 60. E' un'esperienza che anche presa senza nessun contesto è in grado di essere completata in una o due sessioni di gioco e di arricchire il giocatore. Insomma. Nel caso non si fosse capito questo gioco mi piace un casino. Non è certo qualcosa che consiglierei a tutti e se siete il tipo di persona che ha bisogno di botte o esplosioni per godersi un gioco magari guardate altrove. Se non è così però sono abbastanza sicuro che in Ethan Carter ci sia qualcosa per voi. Inoltre ancora per circa 10 giorni lo potete trovare sull'umble bundle a meno di 4€. E parte del vostro acquisto va alla beneficenza di vostra scelta. Quindi adesso non solo se non lo comprate avete un gusto orribile. Ma siete anche brutte persone. Comunque per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto e nel caso apprezzerei moltissimo se poteste metterci un mi piace e condividerlo con i vostri amici. Ci vediamo la settimana prossima.